L'aviazione israeliana ha lanciato almeno 12 raid aerei notturni sulla striscia di Gaza. Gli attacchi sono stati diretti contro siti di addestramento palestinesi e sono il risultato della sparizione, secondo Gerusalemme un sequestro, di tre giovani coloni. Il leader di Hamas, Meshal, ha però negato ogni coinvolgimento dell'organizzazione integralista nella sparizione dopo giorni in cui Hamas stessa aveva tergiversato nel prendere posizione. La comunità internazionale considera spropositata l'operazione di Zahal, anche per controbattere alla propaganda avversa, all'ONU di Ginevra ha parlato la madre di uno dei ragazzi scomparsi. È sbagliato prendere ragazzi innocenti e usarli come strumenti di coercizione in una guerra? È una cosa crudele. Vi chiedo, i ragazzi non hanno diritto di tornare a casa da scuola sani e salvi? Chiediamo solo che tornino nelle loro case e nei loro letti. Dopo due settimane di operazioni, diversi palestinesi morti a centinaia gli arresti, assieme a un civile israeliano ucciso da un missile tirato dalla striscia. Finora le ricerche sono state infruttuose e i sospetti vanno ormai nella direzione di uno dei gruppuscoli radicali islamisti attivi nei territori palestinesi.